Musica Carissimi amici salve a tutti, continua il viaggio insieme a Entrate Siamo Aperti, oggi faremo visita a una struttura bellissima perché è un'idea unica in Calabria e in Basilicata, l'hanno realizzata due giovani che conosceremo da qui a poco, in modo particolare anche Federica e Francesco Munno, quindi siamo qui in Contrada a Padula su quasi 10 ettari di terreno, nasce il primo cimitero per animali. L'amico dell'uomo fedele, da questo punto amici calabresi avete la possibilità di avere una degna sepoltura per il vostro animale, quindi abbiamo acceso i riflettori oggi su questa attività e su questi giovani che hanno tanta voglia di crescere, di lavorare e di portare avanti idee nuove per questa nostra Calabria, quindi da qui a poco anzi ci avviamo, conosciamo e ci spiegherà tutto Federica che troveremo da qui a poco. Allora, seguitemi insieme ad Enzo Leonetti, facciamo questo percorso oggi qui dal cimitero degli animali, in Contrada a Padula, a San Pietro in Guarano. Andiamo! Ed eccoci, dobbiamo salire, poi dobbiamo riscendere Enzo, comunque adesso un attimo, ecco se non mi sbaglio è lui, ecco Federico, buongiorno, Francesco, io mi chiamo a lei Federica e a lui, vabbè, allora sono Federica e Francesco, io ho detto Francesca e Federico, che bella cosa, ma anche questo rimarrà impresso, perché poi che succede? Quando poi vedranno, guarda il cimitero degli animali al primo, il primo in Calabria e in Basilicata, siete dei giovani, siete stati bravi a realizzare questa struttura, bellissima, come stai innanzitutto? Tutto bene, grazie. Quanti anni hai? 25. Francesco, Federico e Francesco, 25. Francesco, allora, però ho parlato, un po' poi, ciao Federica, buongiorno, eccola qua. Buongiorno. Ah, questi sono gli uffici, buongiorno, entrate, siamo aperti, ma voi siete aperti qui, siamo all'aria aperta, incontrata a Padula, qui di San Pietro in Guarano, come stai Federica? Tutto bene, grazie. Complimenti, tuo fratello non parla? Non parla. Ma l'aveva detto lei, a microfono in spendice, Francesco è difficile che parla, perché non ama le telecamere, i microfono e quant'altro, come è nata questa idea? L'idea è nata proprio dall'amore che troviamo per gli animali, e da una necessità sia affettiva, nel momento in cui vengono a mancare i nostri amati animali che fanno parte delle nostre famiglie, e anche logistica, perché quando viene a mancare un animale non si può, come banalmente si fa, prenderlo e mettere in un terreno, in un giardino. Si, vanno dappertutto, io lo so perché. È una cosa illegale, molte persone lo ignorano, ma se dovessero essere scoperti c'è anche la denuncia penale. Certo. Quindi è un'esigenza sia affettiva in modo tale che poi possano venire a far visita, possano venire a trovarli, ma anche logistica. Io ho detto che siete su 10 ettari di terreno, questa struttura, avete già iniziato, insomma siete da un anno. Sì, sì, siamo quasi da un anno. Un anno, sì, un anno. E quindi abbracciate, ho detto che siete gli unici tra Calabria e Basilicata, no? Sì, sì, siamo gli unici, infatti abbiamo clienti perché i nostri ospiti sono molto molto estesi sul territorio, in tutte le province. Ma adesso un animale a casa ce l'hanno tutti, il cano, il gatto, voi fate un po' tutto, no? Qualsiasi animale d'aspezione. Ecco, perché si chiama il cimitero degli animali, la dolce quiete. Sì. Anche il nome è bello. Come è nato il nome? C'è una dolce quiete. Adesso abbiamo pensato un po' e poi ci sembrava il nome più adatto, perché c'è veramente una quiete. Ma qui si sta veramente bene. Non so, Enzo, se riusciamo a far vedere, c'è un panorama bellissimo, qui vedete anche la città di Rende, insomma. Sì, si vede tutto l'Interland Cosentino. Tutto l'Interland Cosentino. Guardate, è veramente bello. Siamo incontrate a Padula, il comune di San Pietro in Guarano, veramente un comune, insomma. Provincia di Cosenza, come sappiamo tutti. Provincia di Cosenza, anche la zona industriale, quindi amici calabresi siciliani, perché noi ci seguono anche in Sicilia, sulla provincia di Messina e Catania, Sicilia orientale. Quindi avete la possibilità oggi o domani che viene a mancare il vostro figlio, perché ormai, diciamolo, fanno parte della famiglia, è un figlio, un cane è un figlio. Qualcuno diceva che gli antichi c'erano, forse ti dà più affetto un animale che molte volte, tra virgolette, i figli, no? Così dicevano direttamente. Beh, diciamo che gli animali sono sinceri e danno amore disinteressato, più di molte persone, quindi... Senti, Federica, vogliamo fare il viaggio perché adesso andiamo a vedere come vengono sistemati e tutto quanto. Allora, ci avviamo con Enzo Leonetti, andiamo e seguiamo Federica per questo viaggio nella Dolce Quiete. Complimenti per i capelli, Federica. Grazie. Io l'avevo anche così una volta, adesso non resta due o tre sciampi, insomma, comunque ci siamo. Comune di San Pietro in Guarano, con Trada Padula. Insieme a Federica adesso ci avviamo per vedere anche la struttura. So che è venuta anche la Brambilla qui da te a fare un servizio nazionale, no? Avete avuto anche il risalto nazionale. Però, ripeto, anche il risalto nostro locale, calabrese, è importante perché poi voi operate sul nostro territorio, no? Quindi è importante, Federica, dare questa informazione, insomma, ai cittadini che molte volte non hanno come muoversi e come sistemare un animale che viene a mancare. Quindi da oggi, ragazzi, c'è la possibilità perché adesso andiamo a vedere, prego Enzo, prego. Andiamo a vedere proprio come vengono sistemati qui all'interno della Dolce Quiete. Ecco qua. Sì, prego. Sì. Adesso puoi parlare, siamo in presa diretta, Federica, puoi vedere quello che vuoi. Allora, qui già vengono sistemati qui. Ah, ci sono lì, vedi. Ma realizzate tutto voi? Tutto noi. Poi mettono anche la foto. Ah, poi fate, ritirate i cuccioli. Sì. 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 Facciamo ritiro, trasporto. Ah, quindi qui lasciano tutto praticamente, uno metto anche il guinzaglio, un oggetto caro. Portare effetti personali dei cuccioli che sono venuti a montare. Altrimenti decidono di metterli proprio dentro insieme a loro. Sì. E invece altri... E qui praticamente, Federica, ci saranno... Voi fate, realizzate tutto voi, anche la cassettina per... Sì, sì, ci affidiamo a un'azienda. Un'azienda che, in base alle misure dell'azienda sanitaria, costruisce la cassa nel legno che non c'è stata. Sì. E sì, poi, come dicevamo, l'orbetta sintetica. Sì. La cornice in legno e successivamente viene fatta anche la tarda commemorativa in legno, con tutti i dati... I dati. Dei vari cuccioli. Ci sono anche delle dediche che ogni proprietario sceglie di scrivere per dedicargliele. E anche le fotografie... Ecco qua, questo è Lucky. Lucky dice, per sempre principe dei nostri cuori. Vedi, questo era un pastore tedesco. Ma maggiore anche questo è un pastore tedesco. Tanti... Bert Terranova. E adesso prendi la palla e corri felice. E l'amante del pallone anche lui. E infatti c'è il Super Santos qua, Enzo, l'avevi visto? Il suo? Allora, c'è il Super Santos qui che... Sì, sì, sì. Era un amante del pallone, Bert. Quindi hanno deciso di posizionarglielo anche adesso. Allora ragazzi, quello che state vedendo è la dolce quiete. E qui siamo in territorio di San Pietro in Guarano, lo ricordiamo. Veramente una struttura questa mancava in Calabria. Viene da questa parte Federica, così Enzo riprende anche il tutto. Dicevo... Può andare tranquillamente, c'è il percorso... Può andare tranquillamente, c'è il percorso per visionare meglio. Senti Federica, diamo qualche informazione per chi naturalmente poi vi vuole trovare. avete... C'è il sito, ci sono anche le pagine, insomma, social... Come funziona il tutto? Voi poi andate anche... Allora, noi siamo riferibili a questo serario. Aspetta un attimo, dimmi, che è successo Enzo? Quello che state vedendo naturalmente è la dolce quiete. Qua siamo insieme a Federica che adesso ci dirà come funziona. Poi all'interno come funzionano questi mini loculi, ecco, diciamo così. Allora, vengono usate delle casse in legno rivestite in raso. Sì. Con queste noi andiamo a prendere il cucciolo a casa delle persone che ne subiscono la perdita. All'interno viene messo appunto il cucciolo, chi desidera appunto gli effetti personali, e viene chiuso tutti a loro. Poi viene trasportato qui al cimitero e, come si può vedere, è proprio un cimitero all'aperto. Quindi viene scavata una buca, poi viene coperta, viene applicato un pezzo di erbezza sintetica a delineare, a delimitare ogni posto, la cornice in legno e successivamente, come vi avevo già detto, la targa commemorativa in legno con tutti i dati del cucciolo in questione, anche la foto e una rosa. Questo l'avete realizzato solo voi, praticamente, con Francesco? Io so che avete avuto 300-400 mila euro dalla regione Calabria, se non mi sbaglio. Assolutamente no. Lo dico perché hanno realizzato tutto loro, quindi è tutto, diciamo, tanti sacrifici del papà, dei genitori, insomma. Noi abbiamo creduto in quest'idea e i nostri genitori hanno creduto in noi. Tutti i risparmi di una vita li hanno investiti in noi, nella nostra idea. Non abbiamo avuto aiuto da nessuno. No, faccio bene a dirlo perché purtroppo qui in Calabria, che succede? Negli anni belli, negli anni passati, no? Succedeva che, gira da questa parte, andiamo a favore di casa, succede che molte aziende qui beccano i soldi, questi finanziamenti, e quant'altro poi scappano, non aprono le aziende, stanno aperte un anno e poi chiudono. Invece loro non hanno avuto niente da nessuno, hanno iniziato loro direttamente con i soldini della famiglia e hanno investito in questa struttura che, diciamo, mancava. È l'unica, come ho detto, in Calabria e in Basilicata. Allora, quindi stiamo dicendo uno vi chiama, voi fate tutto il servizio completo. Servizio completo, dal ritiro al trasporto, alla sepoltura, e ovviamente le persone che lo desiderano possono assistere anche alla sepoltura, e possono anche venire a far visita ogni volta che lo desiderano. Ecco, bravo, io voglio capire, poi uno che vuole venire a trovare l'Aki, il cane, il gatto o meno, può chiama oppure tramite appuntamento? Su appuntamento possono venire ogni volta che lo desiderano, basta che chiamino il giorno prima oppure la mattina per... Alla mattina per prendere l'appuntamento, posso venire domani. Esatto. Però ecco, è bello perché uno sa dov'è il proprio figlio, tra virgolette, no? E rimane sempre qua, vedi, sono tutti sistemati. Quanti sono adesso? Eh, sono più di 60. Sono che ieri siete andati in provincia di Catanzaro a prendere altri due. Sì, sì, sì. Eccoli qua, Enzo, però non c'è la targa, adesso aspettiamo. Ancora la targa non è pronta, essendo nuovi ospiti, sì. Sono della provincia di Catanzaro, mi diceva Francesco poco fa, quindi voglio dire, poi voi chiamano direttamente e voi andate e fate tutto col furgoncino, tutto a norma. Sì, facciamo tutto. Quindi avete tutti i permessi anche dell'Ast? Noi abbiamo tutti i permessi, ovviamente rilassiamo fattura fiscale, detraibile dalle tasse, perché il cimitero per animali è equiparato a tutti i livelli al cimitero per umani, quindi l'intero importo è detraibile, perciò possono pagarci con bonifico, assegno, anche in contanti, tanto è tutto fatturato. Tutto fatturato, vedete, tutto a norma che è la cosa più bella. E la dolce qui, veramente io sento gli uccelli qui in sottofondo, è veramente bello. Ragazzi, è un suggerimento che noi diamo, per del resto entrate siamo aperti dalla possibilità anche a tutti gli imprenditori, la ripartenza, loro sono ripartiti dopo questa situazione del Covid, insomma, poi da un anno a questa parte si è capitato proprio un momento difficile. Noi abbiamo avuto l'idea prima, ci sono stati anni e anni di lotte con la burocrazia calabrese e poi abbiamo aperto in pieno Covid a luglio dell'anno scorso, luglio 2020. E speriamo che ci possano aiutare le istituzioni, ci possano dare un supporto, un sostegno per migliorare sempre di più, perché questo è il nostro intento. E noi ve lo auguriamo, perché io volevo leggere qualche frase anche sulle... Qual è? Questa, vieni Enzo, Enzo al fresco, vedete, mi lascia al sole sotto i 90 gradi di San Pietro. Questa, prego, cosa c'è? Io non vedo che dopo i 70 anni, insomma, non è che ci vedo più. Allora, una ragazza dolcissima era la mamma di Blondi e le ha scritto «Sei la cosa più bella che ci potesse mai capitare, non ti dimenticheremo mai». Ci hanno messo tutti gli effetti qua, l'ossicina, e anche la... C'è la foto con la cagnolina. Con la cagnolina, sì, infatti qua anche gli effetti personali, la cassettina. Tutte le sue cose preferite le ha messo. Questa invece è stella, guarda qua, stella, che bella frase, la nostra principessa riposa in pace. Con affetto tutta la tua famiglia. Tutta la famiglia, veramente. Quello è un gattino, se non mi sbaglio, o no? All over. Questa è un'altra stella, questa pure stella, si chiamava. E questo è Paco, insomma, guardate, veramente bello. E questo è un gattino, Remi. Remi, se ti avvicini tu perché io non... Scritto, «Mio piccolo principe guerriero, sei e sarai sempre la nostra gioia. Ci hai dato tanto e con le tue monellerie rallegravi la nostra giornata. Ti ameremo per sempre, grazie di cuore». Allora, come ho detto, realizzate tutto voi. I due nuovi ultimi sono qui, che mancano, diciamo, le targhette perché poi... Realizzate anche questa qua, la fanno i falegname, che il falegname, vedete, è già una struttura che vi segue dappertutto, Federica, da quello che ho capito, no? Ci affidiamo a un falegname locale perché noi crediamo nell'aiuto agli imprenditori locali. Mi sembra sia giusto, piuttosto che... Rivolgici all'estero perché noi abbiamo... Il fatto è che questi falegname è difficile trovarli perché trovare un idraulico, c'è un falegname, insomma, è un 13. Questo invece è... Gastone. Gastone, guardate, io e te, un unico respiro per sempre. Sì, molto molto forte. Molto, sì, infatti ho visto le frasi... Ma quanto era forte l'amore, è esattamente allo stesso livello. Poi vengono a far visita con i fratellini, è veramente toccante. È bello, complimenti per l'idea, Federica. Devo fare i complimenti perché avete realizzato una struttura... Sono 10.000 metri quadrati. Naturalmente qui siamo incontrati a Padula di San Pia, avete visto il panorama che c'è, Enzo, veramente bello. Allora, Federica, siamo quasi addirittura d'arrivo. Se vuoi sottolineare qualcosa che manca, cosa vogliamo dire agli amici che seguono la trasmissione di... Come, vabbè, l'abbiamo già detto, il numero trovano sull'elenco, sulle pagine. Possono contattarci sia scrivendo su Google, cimitero per animali a Dolce Quiete, c'è il sito, oppure su Facebook, stessa cosa, a Dolce Quiete, cimitero per animali, c'è il nostro contatto. Possono chiamarci, mandarci messaggi quando desiderano. Ma la cosa più importante è questo sottolineare che da oggi c'è la possibilità, non dovete più scervellarvi con la testa, dove lo vada a metodo, dove andare in montagna, scava a buca, perché poi, diciamo, non è neanche... E dare dignità, anche dopo la morte, a un esserino che ha dato tutto quando era in vita. Quindi è necessario, secondo me, dargli veramente un degno posto in cui riposare. E' quello che dico anch'io, perché poi più che altro, molti addirittura, li buttano nei cassonetti, non lo lasciamo perdere, è meglio che non ne parliamo. Però, ripeto, l'informazione nostra è questa, che c'è, c'è la possibilità per tutti voi in Calabria, in Basilicata, dove arriva il segnale di TEN, insomma, di capire che c'è la Dolce Quiete per il vostro amico del cuore, no? Sì, sì. La cosa più importante è questa. Allora, Federica, allora, ti lascio il microfono, puoi dire quello che vuoi, ti puoi rivolgere alle istituzioni. Ricordiamo, hanno realizzato tutto loro, eh, Enzo, quindi non ci sono finanziamenti. Quello che certe volte mi trovo ad affrontare è il non sapere delle persone. Alcuni ci chiedono, ma si paga? A noi non paga nessuno, se non... Ci hanno creato anche dei problemi, so che qualcuno, vabbè, i scemi ci sono sempre, quindi tra virgolette, perché pensano già, questi sono finanziamenti, lì deve essere una cosa pubblica, non si fa, questo è un cimitero privato. Sì, è privato, è privato. Abbiamo realizzato tutto con le nostre uniche forze economiche e ovviamente dando un servizio, c'è un costo che posso assicurare che per quanto costi effettivamente il servizio non è un costo... Elevato. No, assolutamente, non ci speculiamo assolutamente. Lo facciamo per passione e l'abbiamo unito a un bisogno che ha la collettività comunque perché... È un servizio importante, certo. È una cosa che mancava. Ma vedi come ama gli animali, lo sa, ma anche la Brambilla che ha realizzato un programma su Rete4 dedicato proprio agli animali, è venuta qui a far vista anche a voi, se non mi sbaglio, no? Sì, sì, sì. Vi ha fatto i complimenti. Sì, sono venuti a fare il servizio, veramente ci hanno onorato, come ci andranno tutti, ci andranno tutti voi che venite a intervistarci. Sì, è venuta anche Donna Moderna, Rai, Medi, Setteuzzi e di più. Adesso c'è anche noi e adesso voi che vedete che arriva Fabio Di Polti, insomma, qualcuno abbiamo dato l'informazione perché è importante, no? Quindi ricordate, non uscite pazzi oggi o domani che viene a mancare il vostro animale perché c'è qui la donna a San Pietro in Guara. Quindi sono contattabili sui siti, naturalmente basta scrivere il cimitero per gli animali e uscite voi, no? Sì, 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 apriamo noi anche su Google, va a scrivere il cimitero per animali e compariamo. Sì, però Francesco, tuo fratello devi lanciare di più, quello non parla mai, deve parlare anche lui oggi o domani, no? Onestamente faccio fatica anche io a parlare. Però sei stata bravissima, ci hai detto in realtà come funziona, hai detto come è la sepoltura, come raggiungere, perché poi questa, diciamo, l'informazione importante è questa qua. Certo, però siamo abbastanza timidi, di fronte alle telecamere diventiamo un po' con il mutismo selettivo. Però notavo, è bello, questa l'hanno lasciato chi più chi meno, chi la pallina, chi il giochino, i cani, i gatti, insomma, quelli che sono qui, gli ospiti che sono qui, veramente c'è di tutto e di più. Guarda lì lì c'è un pesciolino, questo cos'è? È sempre un cano? Chichi, sì, era una cagnolina che praticamente stava sempre in piscina, quindi sì. C'è il delfino, se non mi sbaglio, lo sicuro. Ma le frasi le scelgono i proprietari, sì, per ognuno differente in base al rapporto che avevano, a ciò che gli è rimasto con... Sei stato un meraviglioso compagno di vita, non ti dimenticheremo mai. Sì, veramente se ci si mette a leggere le dediche ci si commuove, perché si capisce l'importanza del legame. Ecco, guarda qua, questo invece è Piper, compagna di tanti anni che non dimenticherò mai, grazie dalla mamma umana. Ecco, come dicevo, i figli, no? Sì, sono figli, diventano a tutti gli effetti parte della famiglia. Gli ospiti, quello più lontano, vengono dalla provincia di Catanzaro? Noi siamo andati ovunque, provincia di Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone, sì, sì, Cosenza. Allora, sono 66. Guarda, io vi faccio i complimenti ancora a te e a Francesco per questa idea che avete avuto. ricordiamo, hanno realizzato tutto da soli, quindi c'è la possibilità per tutti voi che oggi o domani, in corno facendo, viene a mancare il proprio figlio, tra virgolette, che poi è l'animale del cuoio. Questi animali veramente sono figli, è vero? Sì, è vero. Sono... Fanno parte della famiglia, basta soltanto metterli sullo stato di famiglia e poi... Beh, in realtà alcuni hanno fatto ciò. Hanno... Sì, ma è giusto anche, secondo me, perché ci sono persone che non hanno figli umani, quindi è giusto che chi ha qualcosa decida di lasciarlo ai propri animali, se non ha nessun altro. Guarda, Federica, allora, se facciamo una carrerata facciamo vedere anche tutta questa bella zona che c'è qui. Allora, guardate, siamo qui a San Pietro in Guarana, la Dolce Quiete, Enzo, da lì c'è praticamente tutta la città, tutto il comprensorio della valle che vedete, la città di Cosenza e la città di Rende. Allora, Federica, io ti ringrazio per l'ospitalità, io vi faccio i complimenti ancora una volta e lo ricordiamo come raggiungervi. Qui a Contrada Padula su 10 ettari nasce il cimitero degli animali, che è la Dolce Quiete. Sì, grazie mille. Se vuoi salutare qualcuno, gli amici di Tenne, lo puoi fare. Salutiamo tutti gli amici di Tenne. Grazie a Federica e Francesco Munno, da Fabio Di Polito è tutto, la linea allo studio, allora ritorniamo da qui a poco. Un abbraccio e alla prossima. Ciao Federica, ciao Francesco. Francesco è all'ombra dall'altra parte, non si vuole far vedere perché è timido. Vabbè, comunque, ti perdoniamo. Alla prossima volta che ritorniamo devi parlare. Ciao, una felice giornata a tutti voi. Ciao. Continua il viaggio, amici, con Entrate Siamo Aperti. Oggi siamo a Guardia Piemontese, vedete qui, questo è il famoso scoglio della regina, quindi naturalmente chi non ha fatto un tuffo dallo scoglio della regina. Ed eccoci, amici, con Entrate Siamo Aperti, ritorniamo insieme per proseguire questo viaggio all'insegna anche delle attività che si sono, diciamo, riorganizzate dopo l'evento, questo brutto evento del Covid. Comunque, io direi insieme a Enzo di raggiungere, perché siamo all'esterno del ristorante Miramare, eccolo qua, è questo, il ristorante Miramare di Guardia, famosissimo, rinomato. Però io saluto Teresa, buongiorno, buongiorno a tutti, salve. Teresa dice, ma questo caldo sta pure con la giacca, sì, io questa con la giacca voglio fare. Anzi, adesso fa un figo, la tolgo, fa caldo, oggi temperature proprio incredibili. Perché siamo qui fuori? Perché naturalmente qui voi state allestendo anche… Sì, praticamente, stanno ristrutturando qui tutto il lungomare perché c'era il problema qui alla ringhiera, infatti hanno messo queste colonnine nuove, perché qui allestiamo tutto lo spazio esterno dove si può cenare la sera, ed è molto carino, alla brezza del mare, c'è gente che già fa il bagno, vedete, è una giornata veramente estiva, diciamo, siamo quasi intorno ai 40 gradi e ci sono ragazze al mare che giocano, beati loro, vedete, questa nostra costa tirrenica, questo mare calabrese che è veramente bello. Allora, Teresa, voi siete rinomate, da quanti anni il ristorante? Sono 26 anni. 26 anni del Miramare qui di Guardia. Perché lo abbiamo in gestione noi, ma in verità è dagli anni 50 più o meno che esiste. Esiste. Che esiste, sì. Come sta andando, com'è andata? E allora, dopo questa chiusura che abbiamo avuto a causa del Covid, abbiamo ripreso alla grande, devo dire. Siamo sempre, anche quando eravamo aperti solo con la saletta piccola, perché non potevamo, diciamo, accogliere le persone alla sala grande, comunque abbiamo fatto, abbiamo avuto sempre prenotazioni, sempre persone che ci sono venute a trovare, perché, insomma, la frittura al metro piace molto. E poi sono tutti i prodotti nostri, diciamo, perché poi più che altro il pescato nostro è riportato in tavola, che poi da qui a poco ve lo faremo vedere. Non stiamo qui al sole, ai 40 gradi con Teresa, ma da qui a poco entriamo che siamo aperti. E questo è il messaggio che dobbiamo lanciare agli amici che seguono. entrati siamo aperti. Allora, Teresa, ci vogliamo avviare? Sì, prego. Naturalmente, ricordiamo, siamo a Guardia Piemontese. Sì, sul lungomare. Sul lungomare. Questo è il lungomare, come vedete, ancora in allestimento. Abbiamo lo scoglio della regina. Lo ho visto, lo scoglio della regina. Stanno pitturando anche le ringhiere, quindi ci si organizza, insomma. Ecco, ci si organizza. Quindi voi, oltre alla saletta, adesso, quando si arriva... La piccola saletta, che abbiamo potuto utilizzare nella prima fase, che appunto era ritenuta all'aperto, e poi la sala grande. Qui c'è l'ingresso. Quindi qua si entra praticamente, e appena si entra, avete... Sì, qui praticamente funziona così. Chi entra deve, almeno una persona del gruppo, deve lasciare il nome e cognome, telefono e via dicendo, per la tracciabilità, poi c'è la misurazione della temperatura. Ma vedi quanti segni voglio dare, giusto per lo capire? 800, quando ne so? 36 e 6. Inizia, comincia a salglierla, non 35, insomma. È perché fuori c'è il riscaldamento esterno. Poi naturalmente c'è il riscaldamento. Poi qui abbiamo il dispensatore per, diciamo, per le mani, per igienizzarsi e poi si può entrare all'interno della sala. Ecco, la cosa importante che sottolineava Teresa è che qua vedi, vengono registrati con il nome, il cognome, il numero di telefono. In maniera tale devi avere la reperibilità, insomma, eventuali emergenze. Emergenze, certo, certo. Comunque, una bella fregatura. Speriamo di uscire nei migliori dei modi. E invece nei momenti difficili cosa avete? Nei momenti difficili, insomma, è stato difficile perché abbiamo dovuto comunque, no? Tutta l'economia è andata in difficoltà, quindi anche... Poi avete sentito proprio chiusi, chiusi? Eh sì, la ristorazione è stata, diciamo, colpita... No, no, avete fatto asporto, no? Sì, no, no, abbiamo fatto asporto, però ovviamente non è la stessa cosa. Posso poggiarla? Sì, sì, puoi poggiarla qui, la giacca. La giacca perché veramente fa tanto caldo. Sì. E allora, poi praticamente c'è la prima sala. Quindi poi qui c'è la sala. Sì, che è praticamente già sul mare. Molto arieggiata. Sul mare, sì. Nonostante il caldo, comunque c'è sempre quest'arietta. Che bella brezza, Maria. Adesso ti racconto una storia. È venuto un signore. Buongiorno, buongiorno. Lui è il metto di sala, Giuseppe. Buongiorno, buongiorno. Ciao, Giuseppe. Come è andata, Giuseppe? Bene, tutto bene, tutto bene. Ringraziamo a Dio. Come si è una bella rietta qua. Sì, oggi, diciamo che a differenza di ieri si respira un po', ma ieri era qualcosa di impressionante. Però c'è il mare, quindi c'è quell'arietta marina, quella brezza. Certo, certo. Quindi vi aspettiamo e vi facciamo stare freschi. Grazie. E stavo raccontando, no? Prego, prego, Teresa. Che praticamente, tempo addietro, arriva un signore e dice, chiudete l'aria condizionata subito. E dice, qua non c'è nessuna aria condizionata, questa è la brezza del mare, quindi si sta molto, diciamo, freschi. I diavetate poi si possono chiudere d'inverno e aprire le stade. Sì, queste sono, appunto, sì. Noi d'inverno ovviamente le teniamo chiuse, poi quando comincia la bella stagione iniziamo ad aprirle. Questa è, appunto, la sala grande e poi c'è quella saletta piccolina. Sì, sì. Che è... A debita anche a, diciamo, per... Quindi quando mettete quattro persone a tavolo, cinque... Allora, questi tavoli qua da due. Da due, sì. E invece quelli là da quattro... Da quattro, sì. E che di solito noi facciamo da sei. E quindi cerchiamo sempre di mantenere la distanza... Tanto dall'altro, è importante. Sì, sia tra i tavoli e sia proprio nella seduta. Tutti insicure. Si parla che adesso, insomma, si dovrebbe ritornare alla normalità. Il coprifuoco non c'è più. Sì. Quindi nell'estate potete stare un po' anche all'aperto, perché ricordiamo da qui a poco aprite anche la pagodina sul tratto del lungomare. Però voi, in qualche modo, vi conoscono questa frittura a metro. Com'è nata st'idea della frittura a metro? È nata praticamente sette anni fa. Giuseppe, più o meno, una sezione d'anni fa. Quando è nata la frittura? St'idea della frittura a metro, sette, otto anni fa. Indicativamente, sì. Ci sono otto anni, indicativamente sono questi. Dove sei tu, Giuseppe? Io sono della provincia di Reggio Calabria, Palme. Ah, di Palme. Sono sposato qui a Foscaldo da dodici anni. Abbiamo trovato napoletani. Vabbè, tu sei calabrese, insomma. Sì, sì, calabrese. Salutiamo gli amici di Palme, che dell'Europa si vede molto bene anche a Palme. Quindi tutti voi che seguite dalla provincia di Reggio Calabria. Sì, sì. È meglio qua o là? Guardi, no. È un dodici, no? Perché dice qua, io ma guai, poi mi vietano là. Ma guasto. Sono qui in televisione, ma la mia terra è la mia terra. Non ha capito nessuno. Però sto bene anche qui, è un posto dove si vive tranquillamente, gente tranquilla. Siamo qui per lavorare, per stare con la famiglia. Il resto a noi... Che è la cosa più importante, hai i figli? Sì, almeno uno di otto anni, che è a casa con la mamma, che è età, no? Senti, cosa ti chiedo nel modo particolare? Perché di mare c'è il pesce, no? Ma voi fate delle cose particolari. Tu cosa consigli di solito a chi si siede? Uno arriva lì, che ti darai qualche consiglio? Allora, ogni giorno comunque il pescato giornaliero, io lo propongo ai miei clienti, ma loro già arrivano con l'idea pensando che noi facciamo solo la frittura al metro. Che bella cosa. La frittura ce l'avete, ma noi non siamo solo frittura al metro. Noi abbiamo dei primi da... Uno particolare, dimmi che poi andiamo in cucina. Allora, noi facciamo la fristurata della regina, che sarebbe una pasta fresca fatta in casa, una tagliatella, una lagana, la chiamano in dialetto, allo scoglio servita in padella. Un altro piatto forte nostro è il paccaro a modo nostro, con cerni a fresca e gamberi rossi del mare nostro. I gamberi rossi. I soliti primi, diciamo, tradizionali, spaghetti alle vongole, il risottino ai frutti di mare, un paccaro alla siciliana, ma i nostri piatti forti sono... In cucina chi troviamo, Teresa? Troviamo due belle... Carminuzzo? Eh, proprio detto... Perché uno, se è Carmine è una cosa... Guarda lì, guarda lì, guarda lì. Se è Carmine... È una cosa. È una cosa. Se è Carminuzzo è un altro. L'ha fatto Carminuzzo. Se l'ha fatto Carminuzzo è buono. L'altro giorno, mi è arrivato un piazzo, un lantipasto a mio marito. Chi si ha fatto Carminuzzo? Perché... Già l'ho capito... Si vede subito, si vede che c'è la mano sua. Però, Teresa, vedi, il fatto che dicevi prima il pesce nostro, i prodotti nostri, che è importante, no? Tu hai anche un gruppo che si chiama Gruppo Sanizzo. Sì, sì, Gruppo Sanizzo, Terroni di Calabria. E Terroni di Calabria, vedi che bella... Terroni di Calabria, sì. Questo gruppo è nato sostanzialmente proprio con il Covid. Sì. Dove cucinate, fate vedere i prodotti. Sì, cuciniamo tutti i prodotti tipici calabresi, portiamo avanti, diciamo, i nomi delle aziende, anche calabresi, perché ci sponsorizzano, comunque ci regalano dei prodotti. E quindi, insomma, stiamo... sta crescendo bene il gruppo, siamo quasi a 10.000 iscritti. Però la cosa bella è che loro usano e consumano tutti i prodotti, diciamo, a chilometro zero. Noi stiamo promozionando questo chilometro zero, che è importante, no? Allora, Teresa, chiamati Carminuzzo, se così possiamo chiamare. Allora, da qui a poco accendiamo i riflettori con Carmine, prego, andiamo. Ma solo lui c'è? No, no, c'è tutto il gruppo. Tutto il gruppo, benissimo. Allora, come promesso, entriamo, siamo aperti e qui sono aperti in tutti i sensi. Sono qua nella cucina del Miramare, metto anche la mascherina, perché nella cucina abbiamo la mascherina. C'è Carminuzzo dall'altra parte, che ve lo faccio vedere. Insieme a me, Teresa, Enzo, se vuoi far vedere quello che succede qui al Miramare, oltre sicuramente alla frittura al metro, ma qui ce n'è per tutti i gusti. Guardate qua, un po', veramente qualcosa di unico, direi, guardate. Allora, qui abbiamo seppie, da questo lato. Sì, tutte fresche, guardate, c'è anche il nero. Qui abbiamo i calamari, alici, alici nostri di qua, le vongole che stanno scurgando, i gamberoni, gamberoni vivi, guardate, guardate. Gamberoni che si possono mangiare subito. Sì, questo qui è tu, ma tu lo mangi. Sì, questo anche è crudo, lo puoi mangiare. Anche crudo, sì. che adesso ha iniziato a friggere, Leopoldo, eh? Sì, ciao, bentornati. La frittura a metro, quindi un metro, due metri, tre metri, come dicevo prima, anche... Mezzo metro, sì, mezzo metro, sì. Un mezzo metro sono io, per intenderci, insomma. E come va, come sta? Ma tutto a posto, tutto a posto. Ma questi che sono? Allora, questi sono le gamberette alla parigina, che sono dei gamberi pastellati e poi imbanati. Questi sono spiadini di gamberi, sempre pastellati, e spiadini di pesce spada. Poi che ci metti? Poi ci mettiamo le polpette del persico. Ah, queste le polpette del persico. Sì, poi. Poi i calamari, totani, alici e gamberoni. Quindi la frittura completa. Ricordiamo, Leopoldo, che si parte da mezzo metro e si arriva... Un metro, un metro e mezzo. Due metri. Sì, sì. Ma secondo quello che volete. Tutto lo fanno in presa diretta, quindi... Quelli sono i gamberi di cetraro? Sì, sì, i gamberoni. Sono i gamberoni rossi. Sì, sì, proprio rosse, fresche, sì. La bontà, naturalmente, qui al Miramare, a Guardia. Certo, vi assicuro che stare qui ai fornelli non è facile. E io a questo punto saluto tutti i cuochi, gli chef, chi lavora in cucina, in tutti i ristoranti della Calabria, che noi di Milano, cosa poco ci interessa. Noi siamo in Calabria, abbiamo delle eccellenze in tutti i settori, lo sto dicendo da più tempo, perché abbiamo dalla ristorazione alla medicina, all'ingegneria, all'informatica, al calo, tutti, tutti. Enzi, se vieni, guarda, guarda che bello. Questo l'olio li cambiate quasi spesso, no? Tutto pulito, vedi che bella cosa, insomma, ecco. Allora, procediamo alla fettura. Prima friggiamo le polpette, poi i gamberetti parigini e spiedini. Dopo, calamari e totani, li passiamo in farina. Ah, calamari e totani mi hanno passati in farina, che giù la farina, naturalmente, vedete, tutta preparata, se la fai vedere anche ad Enzo, la farina nostra, no? Abbiamo le farine nostre buone, ecco qua. Lui direttamente da lì, poi vanno in frittura, naturalmente, per realizzare, poi vanno anche... Da quanto tempo fai questo lavoro? Eh, da più di 15 anni. Di dove sei tu, Leopardo? C'è Traro. Ah, C'è Traro, quindi sei anche della costa tirrenica, Cocosentina, quindi, eccola qua, guarda quanto è bella. E quindi qua adesso... Lo imbareniamo, lo siamo setacciati per bene, lo siamo setacciati e adesso li friggiamo. Quindi adesso vanno soltanto fritti. Poi dopo lo sistemo in più tardi, ecco, queste vanno messe lì. E allora, vi ricordo la frittura, che diciamo loro sono conosciuti, per questa frittura al metro, due metri, tre metri, insomma, il Miramare, ma non è solo la frittura al metro, ricordiamo che c'è Carmine, lo chef che ha dei piatti eccezionali, avete visto poco fa, insomma, qua basta venire, siamo proprio di fronte allo scoglio della regina, dove il mio amico Giorgio Maritato, l'ho posto ogni mattina, l'ex sindaco, non so se era sindaco qua, Giorgio, però... Guardate, pao, scoglio della regina, è basco, scoglio della regina, lo conoscono tutti, scoglio della regina, va bene. Comunque, poi che c'è qua? Stesso procedimento si fa con i gamberoni e le alici, si prendono una manciata, si invarinano... Sempre lì, che poi queste alici invarinate e frizzano i migliori di tutti, insomma, poi, questo è il pesce azzurro che è veramente quello nostro, no? È molto sottovalutato, ma è molto migliore. Come? È molto sottovalutato il pesce azzurro, ma è un... È vero, è vero, è vero, non abbiamo quegli alici, le alici della costa tirrenica, ma anche questo è lo Ionio, sono buone, però qui, diciamo, a Fuscaldo, sapete bene che c'erano, c'è anche il Festival delle Alici. È vero, è vero. Leopoldo, quindi da 15 anni fai questo lavoro? Sì, sì, 15 anni, mi sono diplomato alla Belghiero, sia a Paola... Sei sposato? No, ancora no. Vabbè, ancora c'è tempo. Guarda c'è tempo, sì, sì. Chi va piano, va sano e va... Dove va? Londano. Qualcuno dice a Spezzano, ma è uguale, va bene. Allora, prego, eccoci qua. Quindi per voi, la frittura al metro, qui del Miramare, direttamente da Leopoldo Sevierensi, proprio la vedi che è bella quando... Guarda qua, guarda che spettacolo. Il rumore vi faccio sentire, guarda. Questa è una musica, insomma, eccezionale. Tu te ne accorgi... Sì, sì, perché sono belli dorate e croccanti. Guardate, l'olio non si sente, ho avuto modo già di mangiare, di assaggiare. L'olio non si sente, che è la cosa più importante, la frittura, ricordiamo, è l'olio, no? Sì, sì, l'olio è sempre pulito. Se no, prima cosa si sente, dopo viene brutta la frittura, non viene... Sì, quindi l'olio è la cosa più importante, che va... Deve essere pure a temperatura, per la frittura l'olio... Per la frittura l'olio deve essere pure a temperatura e sempre bello pulito. Se no... Che è la cosa più importante, perché dice uno, senti la frittura, cosa e quindi... Sì, è vero, è vero. Allora, adesso stanno per uscire le alici e i calamari, adesso poi li sistemiamo, ecco, poi ognuno va messo in una vaschetta sua, come funziona? Un pizzichino di sale, no? Ci vanno un pizzichino di sale e ci vuole. Un po' di sale e ci vuole. Adesso, adesso, questo è mezzo metro, normalmente c'era già richiesto un signore qui nel ristorante. Adesso andiamo a farlo. Ci mettiamo prima le polpette laterali. Quindi c'è anche una tecnica come mette, no? Sì, poi mettiamo il pesce a spada. Ah, questo è pesce a spada? Sì, bastoncini di spada. Poi, ora lo mangio. Poi, il bastoncini. Poi, il bastoncino. Poi, dopo, dopo. Ah, la pericina con i pomodorini, i nostri. Dopo ci mettiamo due patatine centrali. Ah, pure le patatine, sì. Sì. Le gambe della parigina. Così. Ci vanno i calamari. Uno ci va... Quindi è tutta roba di... Sì, 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 sì. Questo per due persone va bene? Sì, pure tre. Infatti ci sono persone due che non ce la fanno a mangiare. Pure per tre va bene, sì. Pure per tre va bene, sì, infatti. Sì. Guardate che spettacolo il mare, il nostro mare, naturalmente, direttamente a casa vostra. Quindi, con... Queste che sono? Le spelline. Ah, le spelline. Ma può dare uno che la mangiare? Molta la mangiare. Se ci vuole uno, perché se no, che faccia? L'orario specialmente. Ma ci vuole, eh. Poi i gamberoni. Gamberoni? Sì. Guarda, il canzino sta morendo di fame, ma ci sviene sopra qua. Qui siamo a Guardia Piemontese, ragazzi, di fronte allo scoglio della regina, il Miramare. Questo è il nostro mezzo metro. Questo è mezzo metro? Sì. Sì. Invece il metro, più... Sempre lo stesso procedimento. Questo è quasi quanto a me, Mezzo metro? Immaginate uno mezzo metro. Allora, Leopoldo da Cetraro, naturalmente, che qui al Miramare è tutto. Noi continuiamo ancora questo viaggio qui al Miramare. Avete visto tante bontà, pesce sempre fresco. Grazie, Leopoldo. Sì a voi, alla prossima. Allora, continuiamo ancora. In cucina, oltre al Leopoldo, chi c'è? La signora come si chiama? No, lui è un ragazzo. Una ragazza. Ti vedo, mi va abbardato in su modo. Tutto abbardato, cappello, cosa non lo riconosciamo? Guarda, guarda, puoi capire se è uomo o donno, no? Ormai non si capisce più niente. Buon lavoro. Che stai preparando? L'insalata. Insalata capricciosa. Ah, insalata capricciosa. Insalata, rucola, mais, pomodolini e rariccio. E rariccio, bravo. In accompagnamento alla frittura. Arrivo da Carmine, Carminuzzo, eccolo qua, Carmine, buongiorno. Arrivo da Carmine, lei ti ha già nominato. Quando arrivano le cose tue, arriva l'antipasti di Carminuzzo. Che sei preparato, Carmine? Allora, sto preparando la frissurata, spaghetti motoporto e tre risotti, dei risotti del mare nostro. Questo della regina, cosa c'è dentro? Che è quello lì, praticamente. Ci sono i gambi rifreschi di cetraro, le vongole, le cozze fresche, i gamberetti freschi sgusciati, calamari freschi, olio e condimenti vari. Teresa, veramente alti livelli, dobbiamo dire, altissimi livelli. Adesso lo vediamo, questo, come si chiama? Hai detto questo? Poi si chiama frissurata della regina. Che sarebbe questa qua, frissurata della regina. Che l'ha messa qui dentro? E uno la mangia qui dentro? Sì, la può mangiare qui dentro oppure all'interno del piatto. La può dividere anche perché è una bella porzione. Voi la servite così praticamente? noi la serviamo qui all'interno di questa padella. Ma quanto pesa sta padella? Perché questo è rame, quindi è una padella, diciamo, di rame. Sì, sono le migliori come padelle, le padelle di rame. per cucinare. Invece, ecco, adesso, che pasta ci hai messo, Carmine? Sono dei tagliolini freschi. Ma li fate voi? Sì, sì, lo facciamo a noi. Vedete anche la pasta che fanno loro, insomma, ragazzi, è veramente qualcosa di unico, direi, qui al Miramare di Guardia Piemontese. Ricordiamo che, oltre alla sala interna, c'è anche la saletta esterna, anzi, adesso da qui a poco il lungomare. E insomma, Carmine, è dura con questi fornelli, ma quanti c'è? C'è su 90 gradi, che a dirlo. Quello invece cos'è? Sono spaghetti dal Maro Nostro. Sono fatti sempre con il pesce fresco, calamari, cozze, vongoli, gamberetti. Complimenti. Teresa, parla, puoi parlare, puoi dire quello che vuole. Nel frattempo sta... Basta guardare. Basta guardare. E odorare soprattutto. che il profumo poi si sente. Mamma mia, guarda, pazzesco. Mi viene fame, un po' di fame. Vabbè, un po' dopo mangiamo, non è che ce ne andiamo così. Carmine, dopo mi fanno un cuore dalla regina, è qua pure a me. Chienzino, vedi che pure è venuto preparato, dice, non ha mangiato tre giorni, si dice, tre giorni che mangiamo lì. Comunque complimenti, guarda Teresa, doveri complimenti a te, ai tuoi fratelli, Marco, e naturalmente anche Mimmo, perché avete organizzato un'azienda veramente importante. In quanti siete che lavorate? qui? D'estate arriviamo pure a 40. 40 persone? D'estate, di sabato e la domenica. Non è facile, insomma. No, perché insomma va gestito tutto. Senti, invece il pesce è sempre nostro, questo è il pesce pescato che arriva di qua, insomma, e poi giornalmente, vedete, si muove tutto. Sì, ci riforniamo giornalmente dai pescherecci della zona, insomma. sì, sì, insomma, ci siamo quasi, vediamo a che punto è il piatto di Carminuzzo, che è più bello Carminuzzo, no? Eh no, perché Carminuzzo. Tu dici, come ti chiami? Carmine, non rende, però dice Carminuzzo, insomma, è già diverso, no? Allora, adesso lo, guarda, lavora su tre piani, nanzi, ma oggi non c'è molta gente, perché siamo all'inizio ancora, sono le 12 e mezzo, quindi ancora non è, vabbè, ancora è presto, certo, quindi sono tre, ma a volte le padelle sono uno sopra l'altro, 4-5, ma questa è la bravura anche dello chef, poi, del metria individuale, guarda, facciamo un piatto unico, nel frattempo ci ha raggiunto Mimmo, se non mi sbaglio, ecco qua, salutiamola, Mimmo, buongiorno, ho fatto già i complimenti a tua sorella, Marco, insomma, perché voi avete il mare, sì, sì, è una cosa molto importante il mare, vediamo tutto questo abendentio, che noi cuciniamo per i nostri clienti, infatti questo dicevo, poi arriva il piatto di Carminuzzo, perché ora vi sta facendo in presa diretta, questo, che è la fristurata della regina, no? Sì, sì, è una cosa che abbiamo preparato noi, per i clienti, dedicando la scoglia della regina, sì, che come è una cosa che si dice che tanti anni fa, una regina si è fermata allo scoglio, sì, non è la regina di Sabetta, ma è una regina, insomma, però l'importante è che è una regina, l'importante è che è una regina, però vedi Mimmo, quello che dicevo, però non è una regina, non è una regina, che è lui amante delle api, c'è le casette delle api, c'è le casette delle api, ma le api è proprio amante che ne ha, sì, complimenti anche a Teresa, perché è stata, questa mascherina non potevo neanche parlare, mamma mia, complimenti a Teresa, perché è stata brava, ci ha fatto vedere la struttura, anche l'esterno, ma io ho fatto solo vedere, Teresa è il nostro ciore locchiello, ha fatto tutto lei, qua, insieme allo chef, e a tutta la brigata, diciamo che io ho fatto ben bocca, hanno fatto l'oro, io poi mi sono arrivata al momento dell'opportunità, però Teresa, devo dire, il gioco di squadra, io sono del parere che le attività oggi ci devi stare sopra, molte attività familiari, ce ne sono tante, vanno avanti, perché ci dedicate passione, tempo, e professionalità, questa è la cosa più importante, sì, sì, è una squadra tutta unita, sono tutti bravi, e iniziando dal ragazzo, fino a Carmen, avete anche, a Carmenuzzo, che già che l'abbiamo aspirato, chiamiamo a Carmen, se no non rende, poi il Leopoldo, questo fatto da frittura a metro, cammina, sì, tutti, tutti camminano, siamo in metri di palmi, insomma siete tutti ragazzi unici, allora, allora Mimmo, scusami che andiamo a vedere questo scoglio, questo frissurato della regina, guardate qua, guarda, la vista, non è possibile, guarda, Carmelo, guarda qua, questo, Carmelo, va, sì, sì, Enzi, vabbè che tu, Enzi, noi ci siamo a mangiare, non ti preoccupare, Enzi, stai tranquillo, guarda qua, non aspettare, ragazzi, guardate, credetemi, siamo ad altissimi livelli, c'è la Calabria, ma che, c'è la Sardegna, Puglia, noi abbiamo l'ira di Dio, noi abbiamo professionalità che veramente fanno paura, e allora poi che facciamo, pensiamo, diciamo, chiamare l'estero, dovete mangiare e consumare Calabrese, perché abbiamo dei professionisti in tutti i settori, qui siamo al Miramare con Mimmo, Teresa, Marco che non c'è, che salutiamo, allora ragazzi, siamo quasi giunti al termine, abbiamo fatto vedere fuori, qui è aperto, vi aspettano, oltre alla frittura al metro, perché voi vi conoscono questa frittura al metro, però non è, non è solo la frittura al metro, che è eccezionale, però, fanno 50 centimetri, un metro, un metro e mezzo, quanto a me, pure forse due metri, fino a cinque metri, quindi uno piano intero di frittura, sono 30 porzioni, 30 porzioni, sono 30 porzioni, cinque metri, l'abbiamo venduto tre volte, cinque metri di pesce, insomma, abbiamo fatto a settembre, varie volte, il record dei 100 metri, che chiaramente lo abbiamo solo noi, perché nessuno l'ha fatto, nessuno l'ha potuto fare, perché non avendo la frittura al metro, non lo potevano fare, perché l'abbiamo inventata noi, diciamo, molti ci hanno copiato, molti ristoranti, ma non ci copiano, è buon segno, perché vuol dire che siamo, senza presunzione, buoni lavini, bravo, e questo vi fa onore, e devo dire, mi auguro, venite qui a guardia, mi auguro, e vi auguro a tutti voi, una buona estate, voi continuiamo con le trasmissioni, entrate, siamo aperti, oggi abbiamo registrato qui, e devo dire che, oltre alla frittura al metro, c'è Carminuzzi, che vi fa dei primi, che è un'intera, sì, sui primi, Carmine è veramente bravissimo, è bravissimo, guardate, è uno spettacolo, ecco, questa vi arriva, è benvenuto Francesco, è benvenuto Francesco, avete già salutato Francesco, number one, vi aspettiamo, da Teresa, Mimmo, salutiamo anche Marco, che non è qui, che è a Cosenza, molto probabilmente, e Fabio, è tutto, Carmino, chiudiamo con Carminuzzi, perché caromai, Carminuzzi è bello, cioè, troppo bello, non c'è carmi, caromai, Carmino dai, arrivederci, alla prossima, ci vi aspetto, venite a trovare, vi aspetto, anche perché lui, se venite qua, e poi non vi piace il tutto, glielo dite ve lo fare di nuovo, anzi, è vero, facciamo, scherzando, ciao, grazie, allora, un saluto a tutti voi chef, cuochi, che siete in cucina, perché veramente, a tutta la Calabria, gli amici sono anche dalla Sicilia, pensate questi, devono lavorare, oltre a questo caldo, che è pazzesco, qui dentro, guarda che non è possibile, con i fornelli eccessi, su 100 gradi meno, io sto, stai collassando, comunque vi faccio gli auguri, e complimenti per tutto quello che fate, grazie, insomma, questi signori, la pagnotta se la guadagnano, si è parlato di chi sta a casa, con un reddito, ma, non lo so poi fino a che punto, però, io mi auguro che la Calabria, abbia nei prossimi anni, un'inversione di tendenza, e quindi, ritorniamo a parlare bene di questa Calabria, perché abbiamo tutto, non ci manca niente, eccellenza in tutti i settori, grazie, Carminuzzo, ciao, da Fabio è tutta la prossima, ciao, vi aspetto.